Professor Perlman, benvenuto. Grazie di avermi accolto. Ne siamo lieti. Sicuro di sé, eh? Sì. Ti mostro i dintorni? Sì, magari. Grazie. E tu che fai qui? Leggo libri, trascrivo musica, faccio il bagno al fiume, esco la sera. Divertente. Ok, a dopo. Sicuramente è meglio di quello dell'anno scorso. Vedrete che ci dirà addio così quando arriverà il momento. A dopo? Nel frattempo dovremo sopportarlo per sei lunghe settimane. Muscoli sodi. Non c'è un corpo dritto in queste statue, sono tutti curvi. A volte impossibilmente curvi e così indifferenti. Da questo nasce la loro ambiguità senza tempo. Come se ti sfidassero a desiderarli. Esiste qualcosa che non sai? Sapessi quanto poco so delle cose importanti? Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono? Stai dicendo quello che penso? Non dovevo dire niente. Fa finta che non l'hai detto. La natura ha metodi ingegnosi per scovare il nostro punto debole. As it be the mystery of love. Chiamami col tuo nome, io ti chiamerò col mio.